matrimoni che durano per sempre matrimoni, matrimoni, matrimoni belli matrimoni che durano per sempre sono tanti perché Facebook per me è una fonte inesauribile di stimolazioni sapete che ho trovato su Facebook un post vediamo che dice questo post poi ve lo metto come linea di assunto del video questo post dice non so chi l'abbia caricato non so, c'è scritto dietro una coppia che dura nel tempo si nasconde un uomo che sopporta tutto c'è scritto così dietro una coppia che dura nel tempo si nasconde un uomo che sopporta tutto ma come sta facendo? sì sì ci sono anche delle donne che sopportano tutto però la questione è diversa perché non è l'uomo che si pone come oscuro oggetto del desiderio siamo in patriarcato non ve lo dimenticate mai che siamo in patriarcato io sono l'autore di quest'opera che vi parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato poi c'è anche from matriarchi to patriarchi in lingua inglese sta tutto il mondo dunque il fatto è che non è l'uomo a porsi come oscuro oggetto del desiderio è la donna che si pone come oscuro oggetto del desiderio perché la donna si fa bella anche gli uomini si fanno belli ma le donne molto molto di più perché le donne si mettono il rossetto sulle labbra? il rossetto, il rossetto, ma che c'entra? le labbra sono l'anticamera della bocca la bocca serve per mangiare, per parlare perché si mettono il rossetto? voi lo sapete perché le donne si mettono il rossetto? io lo so ma non lo posso dire perché se lo dico youtube mi chiude il canale e io non voglio che youtube mi chiuda il canale perché io ho 81 anni compiuti e quando youtube mi ha chiuso il canale che faccio io al mondo? che faccio? sì io scrivo, scrivo tante opere io scrivo tante opere ma youtube mi serve per farle conoscere queste opere io non voglio che youtube mi chiude il canale perché ho spiegato per quale motivo le donne si mettono il rossetto sulle labbra poi magari vanno anche dal chirurgo esterico e se le fanno belle gonfiare le labbra belle, grosse perché? ma perché? ma perché? ma oltre a mangiare e a parlare a che serve la bocca? per quale motivo? le donne si devono mettere il rossetto a me non risulta che gli uomini si mettano il rossetto sulla bocca sulle labbra non mi risulta e si vede che le donne le donne le donne mettendo il rossetto sulle labbra e fanno capire certe cose quali cose? eh, ditelo voi in qualche commento perché se voi queste cose le dite in qualche commento youtube a voi non piacezzura ma se io le dico qua in questo video youtube non vuole più saperne di me capito? io non voglio non voglio avere problemi con youtube ditelo voi poi le donne si fanno crescere le unghie e ci mettono lo smalto ma che gli uomini si fanno crescere le unghie e si mettono lo smalto? pure alle unghie dei piedi poi le donne vanno anche dal co-affeur co-affeur per dance si fanno acconciare la criniera una volta alla settimana 50 euro, 100 euro poi cambiano il colore dei capelli pure gli uomini ma di meno pure gli uomini ma di meno allora il fatto è ritornando a tromba che non sono gli uomini apporsi come oggetto oscuro oggetto del desiderio ma sono le donne il patriarcato che sia chiaro il patriarcato si pongono come oscuro oggetto del desiderio si pongono come la calamita nei confronti del ferro lo sapete che la calamita attira il ferro lo sapete? la donna è la calamita l'uomo è il ferro si come una trappola infatti il grande il grande Arthur Schopenhauer definiva la donna trappola della natura trappola della natura si voi fate un esame di coscienza fatevi e spiegatevi spiegate a voi stesso per quale motivo le donne si mettono il rossetto sulle labbra anche forte il rossetto forte forte perché io non lo posso dire perché non lo posso dire perché io sono una persona per bene capito? sono stato professore di filosofia e storia nei dicei e poi sono stato pure prestito di ruolo nei dicei classici guardate quante belle opere che ho scritto guardate questa è la mia ultima opera ma presto riusciranno delle altre perché anche se io ho 81 anni compiuti non finisco mai di creare di creare sono un creativo i giovani dicono quello lì è un creativo allora la donna si pone come oscuro oggetto del desiderio un patriarcato un patriarcato un patriarcato non c'era bisogno io queste rose le ho già spiegate tutte che sia chiaro le ho già spiegate tutte e la donna deve attrarre attrarre deve attrarre e corona il suo sogno quando viene sposata quando viene sposata o davanti all'altare o in municipio non ha importanza oppure anche quando fa un'unione civile la stessa rosa la stessa rosa non c'è nessuna nella sostanza non c'è nessuna differenza tra il sacro matrimonio è un'unione civile non c'è nessuna differenza tra la semplice convivenza e il matrimonio la musica è sempre la stessa capito? allora allora qua si dice che un uomo sopporta del tutto c'è scritto così dietro una coppia che dura nel tempio si nasconde un uomo che sopporta del tutto si 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 ci sono pure le donne che sopportano del tutto il fatto è ritornando a tromba che non è l'uomo apporsi come oscuro oggetto del desiderio è la donna che si pone come oscuro oggetto del desiderio ma voi riflettete sul rosetto sulle labbra e perché le donne ci tengono tanto a gonfiare le labbra e fanno spendere i soldini in chirurgia plastica o se fanno che so se fanno fare delle punturine dei silicone perché a che servono alle labbra a che servono le labbra a bocca alle labbra che servono io pensavo che le labbra e la bocca servissero solo per mangiare e per parlare ma che c'è qualche altra funzione che viene svolta dalle labbra delle donne che si mettono il rosetto riflettete 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 poi fatemelo sapere voi perché io io magari magari lo so perché si mettono il rosetto sulle labbra però ripeto non lo posso dire perché non voglio avere problemi con youtube e sì un uomo che sopporta di tutto perché una volta che la donna ha svolto la sua funzione impatiarcato la sua funzione di drapola e che è riuscita a intrappolarlo il maschio dal quale si è fatta sposare o religiosamente o civilmente oppure ha fatto un uomo civile ha fatto un bimbo ha fatto un bimbo perché quando una donna fa fare fa un bimbo con un uomo anche se quest'uomo non l'ha sposata e poi c'è la giustizia che impone all'uomo di pagare di pagare deve pagare deve pagare usco ad morte usco ad morte sì 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 non si scappa non si scappa non si scappa credete qualcuno ci scappa ma di solito si paga usco ad morte e allora dopo che ha realizzato il suo sogno di farsi sposare e o di fare il bimbo di fare il bimbo la donna magari ti diventa piano piano col passare dal tempio ti diventa vecchia brutta e cattiva non gli frega più di fare la trappola della natura perché la creatura l'ha già trappolata e il marito si trova a vivere con una moglie o una compagna vecchia brutta e cattiva poi ci sono pure le parentesi delle corna perché se questi uomini qua che sopportano di tutto perché vivono con una moglie o una compagna che sta diventando vecchia brutta e cattiva magari vedono che in un certo periodo la compagna si fa bella si devono preoccupare se torna a farsi bella si devono preoccupare parecchio perché sapete cosa vuol dire questo segno qua lo sapete che vuol dire è un segno patriarcale che sia chiaro in patriarcale non esisteva questo segno qua io queste rose le ho spiegate tutte le ho spiegate tutte è un segno patriarcale capito è un segno patriarcale le ho spiegate tutte queste rose from matriarchi to patriarchi sta in tutto il fondo capito in lingua inglese sulla grande piattaforma mondiale della Apple Apple eccolo guardate che bello si e un uomo vive con accanto una moglie o una compagna che diventa sempre più vecchia brutta e cattiva mi pare che sia stato ipotizzato persino che il grande Socrate abbia bevuto la cicuta la cicuta per non continuare a vivere con Sant'Ippe che doveva essere diventata tanto vecchia tanto brutta e tanto cattiva se anche i mariti anche i compagni diventano vecchi brutti e cattivi ma ripeto gli uomini non si sono mai posti come oggetto del desiderio non so se vi spiego poco poco sono le donne che si pongono come oscuro oggetto del desiderio perché ritorniamo a tromba il rossetto mica se lo mettono gli uomini il rossetto il discorso è sempre questo del rossetto lo smalto sulle unghie delle mani dei piedi il rossetto è il rossetto dobbiamo restare sul rossetto capito voi vi dovete spiegare per quale motivo le donne si mettono un rossetto sulle labbra e gli uomini no ma perché che cosa manca agli uomini che cosa manca agli uomini che che manca che che manca perché gli uomini non si mettono un rossetto perché e perché le donne si mettono un rossetto il punto è questo capito il punto è questo chiaro? guardate io potrei parlare a lungo potrei parlare a lungo però la situazione è questa riflettere il rossetto il rossetto riflettete sul rossetto capito sul rossetto poi quando le donne sono tutte imbellettate quando sono tutte imbellettate se ne vanno in giro e non guardano in faccia nessuno magari camminano con gli occhi a terra tanto lo sanno che loro non hanno bisogno di guardare perché vengono guardate magari sono un po' scollate fanno vedere un po' le poppe perché gli uomini ci vanno matti per le poppe perché gli uomini quando sono nati sono stati poppati sono stati alimentati con le poppe anche le donne sono state da piccoline sono state alimentate con le poppe però le donne sanno che quando diventeranno grandi le donne avranno delle poppe con le quali alimenteranno i bimbi e gli uomini no lo sanno che quando diventano grandi gli uomini non ce l'hanno le poppe hanno solo i capezzoli ma non le poppe beh insomma sentite cari amici io mi sono stufato va bene mi sono stufato se volete saperne di più non dovete far altro che andare in libreria vi comprate una coppia dalla stipe del serpente voi magari se volete qualcosa di scientifico andate sulla apple e vi comprate una copia di questa opera fra un matriarchi tu patriarchi capito? va bene va bene cari amici qua nel riassunto di questo video vi lascio il simpatico post che ho trovato su facebook e poi concludo dicendo che non ho parlato del perché le donne si mettono il rosetto sulle labbra se no youtube mi censura per cui qualche commento se volete ditelo voi per quale motivo le donne si mettono il rosetto sulle labbra va bene? ok cari amici ok a tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni